Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video di cucina, la location è sempre la stessa, quindi video di cucina. Oggi abbiamo fatto due nuove ricette e partiamo subito con una. Questa ricetta è un po' particolare perché si chiama peperoni strani, perché appunto ho utilizzato i peperoni come ingrediente principale e un altro un po' particolare, in più ho fatto un mix, insomma, non lo so, a me è piaciuto, oltretutto strabuono, nel senso che me lo sono mangiata per pranzo, quindi buonissimo. Fatemi come al solito sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se riproducete la ricetta con l'hashtag Kitchen Fashion e ricordatevi che i peperoni fanno benissimo. Vi do un consiglio che comunque vi dirò anche nel video, vi do quel consiglio di togliere sempre la pelle perché sono veramente molto più digeribili e da quando io ho imparato questo trucchetto di togliere la pelle e non ho più problemi, perché prima avevo problemi, non riuscivo bene a digerirli, insomma, avevo delle difficoltà. Da quando ho tolto, ho imparato a togliere la pelle e ovviamente anche i semini interni, li mangio in continuazione almeno due o tre volte a settimana. Fatemi sapere tutto e un grosso bacio! Ciao! Ecco il risultato finale della mia ricetta, un po' particolare, diversa dal solito, con questo colore rosso in predominanza che mi piace tantissimo e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Prima di tutto io ho preso i peperoni, li ho messi in forno, li ho lasciati mezz'ora, li ho tolto la buccia, li ho lasciati raffreddare e ho preso tutti gli altri ingredienti che avete appena visto. E l'unico modo per digerire meglio i peperoni è questo. Gli mettiamo un po' di olio e un po' di pepe e li lasciamo lì almeno un paio di minuti a macerare. Prendiamo l'aceto di vino, lo mettiamo in un contenitore, io ho messo questo che è carino e ne ho messo tre cucchiaini. Ho preso la cipolla, io ho preso quella suggerata, voi potete utilizzare anche la cipolla fresca. Ho preso anche il prezzemolo e l'ho lasciato macerare per tre minuti. Quando è tutto pronto cominciamo a comporre la nostra ricetta mettendo dentro i peperoni e le fragole, perché è un mix tra peperoni e fragole. Mescoliamo tutto insieme e la ricetta è finita, quindi ci manca solo di impiattare il nostro piatto e possiamo servirla. Come vedete è una ricetta veramente molto facile, molto veloce, carina ed ha avuto un successo nel senso che è piaciuta tantissimo sia a me che a Pietro. Se la riproducete fatemi sapere appunto cosa ne pensate e sono al prossimo video. Un grosso bacio, ciao!